Italian. Beginner level 19. Please don't forget to subscribe and like the video. Si prega di non dimenticare di iscriversi e come il video. Are you sure that Lisa was with Alexandra and Natalie? Sei sicuro che Lisa fosse con Alexandra e Natalie? Sei sicuro che Lisa fosse con Alexandra e Natalie? Is this coffee with or without sugar? Questo caffè è con o senza zucchero? Questo caffè è con o senza zucchero? Quel caffè è senza zucchero? Quel caffè è senza zucchero? Who is this ice cream for? It is for Anne. 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 Per chi è questo gelato? È per Anne. Per chi è questo gelato? È per Anne. What is this board for? A cosa serve questa tavola? A cosa serve questa tavola? It is for a new shelf. È per un nuovo scaffale. È per un nuovo scaffale. What are all these pictures for? Per cosa sono tutte queste foto? Per cosa sono tutte queste foto? Sono tutti per la mia lezione di storia domani mattina. Sono tutti per la mia lezione di storia domani mattina. Quando è la tua lezione di inglese? Quando è la tua lezione di inglese? È alle 9.15 ogni lunedì, mercoledì e venerdì mattina. È alle 9.15 ogni lunedì, mercoledì e venerdì mattina. Are you sure that it is at 9.15? Sei sicuro che sia alle 9.15? Sei sicuro che sia alle 9.15? Sì, sono sicuro che il mio corso di inglese è alle 9.15. Sì, sono sicuro che il mio corso di inglese è alle 9.15. Dov'era il signor Johnson ieri? Dov'era il signor Johnson ieri? Dov'era il signor Johnson ieri? He was at the library. He is there every day. Era in biblioteca. Lui è lì ogni giorno. I don't like hot tea. Non mi piace il tè caldo. Non mi piace il tè caldo. Amit takes a shower every day. Amit fa una doccia ogni giorno. A me fa una doccia ogni giorno. I usually read a book at night. Di solito leggo un libro di notte. Di solito leggo un libro di notte. People eat. La gente mangia. La gente mangia. Children run. I bambini corrono. I bambini corrono. It doesn't snow in Dubai. Non nevica a Dubai. Non nevica a Dubai. Does the president speak every week? Il presidente parla ogni settimana. John can't open the door, because she is sleeping at the moment. John non può aprire la porta, perché al momento sta dormendo. John non può aprire la porta, perché al momento sta dormendo. I am listening to the radio right now. Sto ascoltando la radio adesso. Sto ascoltando la radio adesso. Tommy is an elementary school teacher. Tommy è un insegnante di scuola elementare. Tommy è un insegnante di scuola elementare. He is explaining something to the students. Sta spiegando qualcosa agli studenti. Sta spiegando qualcosa agli studenti. I can hear him right now. Posso sentirlo ora. It isn't raining right now. Non sta piovendo adesso. Non sta piovendo adesso. Is Tommy speaking right now? No. Tommy sta parlando in questo momento. Tommy sta parlando in questo momento? It's 8.30 pm, and my family is in our kitchen. Sono le 8.30 del mattino, e la mia famiglia è nella nostra cucina. My father is sitting at the breakfast table. Mio padre è seduto al tavolo della colazione. Mio padre è seduto al tavolo della colazione. He is looking at a newspaper now. Sta guardando un giornale ora. Sta guardando un giornale ora. He reads three newspapers every day. Legge tre giornali ogni giorno. Legge tre giornali ogni giorno. My mother is preparing a glass of tea. Mia madre sta preparando un bicchiere di tè. Mia madre sta preparando un bicchiere di tè. Beve tre bicchiere di tè dopo cena, prima di andare in salotto. Beve tre bicchiere di tè dopo cena, prima di andare in salotto. C'è un film in tv, ma mia sorella non lo sta guardando. C'è un film in tv, ma mia sorella non lo sta guardando. Sta invece parlando al telefono con la sua amica. Sta invece parlando al telefono con la sua amica. Di solito guarda un film ogni sera, prima di andare a letto. Di solito guarda un film ogni sera, prima di andare a letto. Ma stasera non sta prestando alcuna attenzione alla tv. Ma stasera non sta prestando alcuna attenzione alla tv. Ma stasera non sta prestando alcuna attenzione alla tv. Neanche mio fratello sta guardando la tv. Guarda spesso le partite di calcio la sera, ma non guarda i film. Guarda spesso le partite di calcio la sera, ma non guarda i film. Mio fratello sta dormendo proprio ora. Dorme per sette ore ogni notte. Mio fratello sta dormendo proprio ora. Dorme per sette ore ogni notte. In questo momento sto guidando. Di solito guido due ore al giorno. In questo momento sto guidando. Di solito guido due ore al giorno. Amet speaks Turkish. Amet parla Turco. Turkish is native language, but right now he is speaking English. Turco è la sua lingua madre, ma in questo momento sta parlando inglese. Turco è la sua lingua madre, ma in questo momento sta parlando inglese. Nebica molto a Istanbul. Nebica molto a Istanbul. Nebica molto a Istanbul? Non così tanto. Il tempo è generalmente piovoso. Non così tanto. Il tempo è generalmente piovoso. Guarda fuori dalla finestra. È soleggiato. Dovrei indossare un cappello da sole. Guarda fuori dalla finestra. È soleggiato? Dovrei indossare un cappello da sole. Guarda. Andreas è arrivato. Guarda. Andreas sta arrivando. Guarda. Andreas sta arrivando. He is over there. He is wailing out of the library. Lui è laggiù. Sta uscendo dalla biblioteca. Lui è laggiù. Sta uscendo dalla biblioteca. I usually drive to work. Di solito vado al lavoro. Di solito vado al lavoro.